La crescita di un paese come Monticelli passa inevitabilmente dalla promozione turistica e dalla valorizzazione di aree come Isola Serafini. Per il candidato sindaco Martina Faticati è fondamentale legare le potenzialità del turismo fluviale con quelle del cicloturismo, creando in questo modo valore per l'intero territorio comunale. La valorizzazione del turismo fluviale è fondamentale considerando il contesto ambientale in cui si trova Monticelli. Cercheremo di favorirlo, di valorizzarlo prevedendo degli attracchi a monte e a valle dell'attuale conca di navigazione in modo da consentire la navigabilità per tutte le imbarcazioni private ad uso turistico. Cercheremo anche di interconnettere la navigazione con i sentieri ciclabili, gli argini, proprio per favorire anche il cicloturismo che sta prendendo piede negli ultimi anni, prevedendo delle aree di sosta attrezzate a disposizione dei ciclisti in modo che abbiano la disponibilità anche di piccole attrezzature per fare piccole riparazioni o ricaricare gli strumenti elettronici con cui viaggiano. Martina Faticati, laureata in Economia e Finanza e reduce da dieci anni in Consiglio Comunale, è sostenuta dalla lista Monticelli Attiva, formata da sei donne e sei uomini accumunati dalla volontà di mettersi a servizio del proprio paese.